Lei chi è? Io sono Farouk Ahmed, il fratello di Rashida. Sono qui come suo inviato. Perché non è venuto personalmente? Valide ragioni, signor Carrington. Ma noi siamo molto uniti. Ho portato con me i documenti necessari e il potere di trattare l'affare estremamente interessante che offriamo alla Denver Carrington. Qual è quest'affare estremamente interessante? Forse quando parleremo del prezzo le sarà meno distaccato. Un milione di dollari in contanti, per quanto in realtà siano 20 milioni. Va bene, mi dica più dettagliatamente di che cosa si tratta, per favore. È un sistema per avere tra tutte e due le parti ottimi profitti. Una delle due parti sarebbe suo fratello. Mi dica, come mai così all'improvviso mi serve questo piatto ben condito? Ho rispetto per lei, signor Carrington. La sua intelligenza e il suo come in affari. Signora America, in che genere di pasticcio si trova suo fratello? Coraggio. Quanto è profondo il fosso, voglio dire, cosa fa. Temo di non capire cosa dice. Non mi capisce? Bene, forse posso aiutarla. Forse, dico forse.